Ieri ho fatto la prima parte della recensione del nuovo simulatore di tabella Excel della Blizzard, Diablo 4. Ho parlato del gioco fino alla fine della storia, quindi a livello 50 nel mio caso. Oggi iniziamo a guardare l'endgame. Voi direte, se è a livello 56, cazzo vuol dire endgame? E il problema è proprio quello che da adesso all'infinito farò queste cose, quelle che vi farò vedere oggi. Questo vuol dire che se queste attività sono interessanti e non diventano noiose troppo in fretta, il gioco può essere abbastanza longevo. Se ci rompiamo il cazzo dopo un giorno, invece diventa una bella merda. Partiamo dalla Helltide, visto che è appena appena sponata, mentre stavo parlando. Infatti dura ancora 59 minuti e 20 secondi. Ovviamente dura un'ora in tutto. Questo che cos'è? È un evento che occupa tutta una zona, i Fracture Peaks in questo caso. E li vedete perché diventano rossi sulla mappa. Noi andiamo lì e uccidiamo quello che ci pare. Quindi nel frattempo possiamo fare anche altro. Uccidendo tutto quanto, ci droppano dei frammenti che poi andiamo da alcune casse e li usiamo per ottenere un pezzo di gear che vogliamo noi. Che è una cosa abbastanza bella perché per esempio a me adesso serve un anello assolutamente per finire la build. Perché altrimenti non riesco a tenere le urla sempre attive, che è una cosa molto importante per un barbero. Questo vuol dire che possiamo trovare la cassa, vedete, weaponry, protection, protection, weaponry. Non ti dice di preciso che cos'è, però per esempio quella degli anelli si chiama Torture Gift of Jewelry. Quindi della gioielleria, non so come sia in italiano onestamente, però è abbastanza riconoscebile. In questa zona non la vedo, quindi potrebbe essere nell'altra zona che è questa qua. Nel frattempo mi stanno picchiando. Ah no, sono delle meteore. Sì, bisogna stare attenti perché ci sono le meteore in questa zona. Quindi andiamo di là che siamo più vicini, andiamo a vedere nell'altra zona se troviamo la cassa che ci serve e poi iniziamo effettivamente a picchiare le cose. Come vi dicevo è comodo perché si possono unire le varie attività. Per esempio adesso devo arrivare lì e potrei per esempio fare anche queste ricompense dell'albero dei sussurri. Però teniamo una cosa alla volta che così non facciamo confusione e riesco a spiegarvi un po' meglio come funziona. Nella zona affetta dall'Altide ci sono molti più mob della norma. Oggi tra l'altro c'è il lancio ufficiale del gioco, quindi i server stanno un po' impazzendo. Non ho avuto problemi per adesso, sono abbastanza soddisfatto della cosa, però sì, diciamo che... E' sempre pericoloso giocare il giorno del lancio di un gioco, ma il PG non è hardcore, quindi sti cazzi. Mi stanno dando questi frammenti che ho lootato in automatico e proviamo a lasciare uno per terra così si vedono bene. Ma tanto ve li loot in automatico, quindi vedi, Aberrat, Cinder. C'è il gioco in inglese, ma tanto non è che sia troppo importante, non è che sia uno Skyrim nel quale stiamo seguendo la storia al momento, quindi va bene com'è. E qua sotto c'è anche un evento. E' un'altra cosa che si trova in giro per il mondo e noi possiamo farlo, perché... Questo, per esempio, è quello dove bisogna salvare sti tizi nascosti sotto i carretti. Adesso arrivano delle ondate, bravo bravo, la solita roba. Noi stiamo qua picchiamo tutto quello che arriva e la sostanza del gioco è sempre quella. La cosa bella è che ci stanno droppando le Aberrant Cinder, quindi le robe per lealtà, di quello che vi dicevo prima delle chest. Quindi noi facciamo questo evento che ci dà le gemette qua, gli obols, che sono quelli che servono per scommettere, in città. Dopo vediamo anche cosa vuol dire scommettere se non lo sapete. Appena finiamo anche gli ultimi mobettini qua, che si sa il barbara essere molto forte e danno singolo. I tre tizi sono sopravvissuti. Si toglie anche il muro, grazie. I tre tizi sono sopravvissuti, li abbiamo fatto un po' di Cinder, è stato anche comodo perché i mob sono arrivati da noi, non siamo dovuti andare a cercarle in giro. I Murmuring Obols, sono quegli affari che vi dicevo prima, dopo quando andiamo in città li vediamo. Stavamo giusto cercando la chest, quella con la jewelry, eccola lì. Quindi andiamo a vedere se è quella giusta perché di jewelry, quindi di gioielleria, ci sono sia la chest con gli amuleti che la chest con gli anelli. A noi servirebbe quella degli anelli. In più ce n'è anche una che è da tutto. Si chiama tipo roba del mistero, torture, gift of mystery, una roba così. Comunque non è, questa qua è degli anelli per esempio, quindi siamo stati fortunati. Adesso possiamo semplicemente ammassare roba, fin qua non abbiamo i 75 frammenti che servono. C'è anche quella misteriosa, dicevo che dà tantissima roba, però non è segnata sulla mappa, quindi bisogna trovare la mano. Oppure ovviamente avere una mappa per sapere dove sono. Anche se la zona cambia di continuo e quindi è sempre una sorpresa. Questo affare, kickstart, è un merdoso boss di livello 72 che credo sia messo qua solo per romper il cazzo. È assolutamente impossibile ammazzarlo per me perché sono 56. Ci ho provato anche con dei party ed è impossibile, quindi non lo so perché salta fuori. Sarà una roba particolare, però va ignorata. Anche perché poi non fa tantissimo danno, cioè non ci sono mai morto. Proseguiamo, guardiamo se c'è anche qualcos'altro da fare. Ecco qua, c'è un altro evento. Questo non so onestamente se mi dà i frammenti dell'Altide perché è un evento particolare. Adesso andiamo a scoprirlo. Finché rimane Helltide con la duration qua, comunque te li dà. Se vedete sparire i frammenti qua in alto a destra vuol dire che in quella zona i mob che state uccidendo non vi danno i frammenti che vi servono. Survive the enemy ways, ok, dobbiamo stare qua e sopravvivere, ottima cosa. E questi eventi sono molto comodi per me perché mi danno le robe per scommettere che in pratica vuol dire andare dal tipo in città che vi dà cosa a caso. Voi andate lì e lui ti dice dammi 60 obols e io ti do un anello a caso. Può essere un anello bianco come un anello unico. Se vi serve un pezzo di gear come a me adesso serve l'anello è molto comodo perché vai lì e sai che ti dà un anello. Poi probabilmente un anello ombredoso però è un modo in più per farmare un pezzo specifico che manca. Ho trovato anche un'armatura per il cavallo. Ok, la impariamo poi quando siamo in città possiamo guardare com'è. A parte che i cc in questo gioco sono devastanti, cioè se per caso non ho le urle attive che mi rendono immune ai cc sono passo più tempo stunnato che no. Bella merda sotto il punto di vista del gameplay, sarò sincero anche perché se trovi una stanza con due o tre elite che stunnano cioè o hai l'urlo attivo che diciamo che a un certo punto arrivi ad avere le sempre attive però non è un bel design del gameplay secondo me. Ecco, mettiamola così. Comunque qua abbiamo fatto, qua fuori si vede che i nostri amici hanno ucciso un po' di gente quindi abbiamo un po' di frammenti e possiamo andare via. Ah siamo a 75, perfetto, torniamo sulla cassa che così ce l'apriamo. Era questa, rings, ok. Basta venire qua e ammazzare st'affare che rompe i coglioni, perfetto. Tu ci clicchi sopra, solitamente ti dà un anello sacred. Noi siamo a World Tier 3 adesso. Un anello sacred c'è sempre, cioè un pezzo di gear sacred c'è sempre più due elisir che mi fanno vedere in mente che non ne abbiamo neanche un attivo. Gli elisir sono molto comodi perché ti danno XP. Possiamo prendere questo per dire che tanto non è importante. Dà bonus quindi aumenta resistenza al freddo, resistenza al ghiaccio, armatura, crit dam eccetera. Se no ci sono quelli inutili tipo aumenta il danno all'iscarit e cose del genere. Però la cosa importante è che per 30 minuti ti dà un bonus di XP che è la cosa molto figa. Adesso andiamo a vedere Jewelry, quello dovrebbe essere amuleti. Ah non ho guardato il nostro anello, se per caso è quello giusto non è ovviamente quello giusto. Ah rings, un altro dei rings quindi abbiamo un po' sculato almeno sotto questo punto di vista. Adesso farmiamo per riuscire ad aprire anche questo quindi visto che ne abbiamo trovati due uno di fianco all'altro. Già che ci siamo uniamo un'altra attività così vi spiegano anche subito l'albero dei sussurri Tree of Whisper. Il Tree of Whisper si carica, abbiamo 10 stack da caricare. Per caricare questi 10 stack abbiamo le tre missioni che sono segnate lì in alto. Alcune danno un Whisper, altri tre e altre cinque. Quelle da cinque sono tutte dungeon, per esempio questo vai lì, fai il dungeon e ti dà cinque sussurri. Questo è un altro dungeon, te ne dà cinque. Credo che siano solamente dungeon, a meno per quelli che ho visto adesso. Ok nella zona PvP anzi ti dà, sono un po' diverse. E allora noi abbiamo quello da tre, ah qua ecco la Harvest. Harvest vuol semplicemente dire vai lì e ammazza dei nemici quindi va molto bene. Ed è nella zona dell'Heltide. Quindi uniamo le due cose. Andiamo a fare questi Whisper più uccidere cose che ci danno questi frammentini che stiamo farmando adesso. Per fare questa, che sono arrivato qua che non dovevo, basta ammazzare gente qua intorno, ti danno, droppano roba. Vieni qua quando li hai finiti e apri quel pilone che fa spawnare un mob, lo ammazzi, fine, bella, complimenti. Adesso vi faccio vedere anche quelli perché sono leggermente diversi dai cinder che stiamo farmando. Allora questi sono quelli per l'albero dei sussurri, quelle pallotte rosse che sembrano dei mini occhi di Sauron. 11 su 40, quando sei a 40 su 40 ovviamente puoi tornare qua e aprire il pilone. Nel frattempo stiamo droppando anche gli Aberrant Cinder, quelli per l'Heltide. Poi già che ci siamo possiamo fare anche questo, Slay Vampire. Ah era diverso anzi, quello che stavo guardando prima erano i Slay Vampire. Questo qua, 36 su 100 invece è quello degli occhi di Sauron che stiamo raccogliendo. Qua abbiamo invece Uccidi dei Vampiri, quindi semplicemente giriamo per la zona e ammassiamo roba. E qua pulisci questo scantinato. Quindi noi andiamo qua e puliamo lo scantinato. In realtà dentro ai dungeon non puoi droppare cose né per l'Heltide né per le altre cose in cima. Infatti non abbiamo niente qua, dove prima c'erano i Cinder che avevamo raccolto, adesso non c'è niente. Però pulire questo scantinato intanto è comodo, non mi piace perché ti apre una cassa in fondo che non serve sostanzialmente un cazzo, è quello il meno. Però ci sta dando un Whisper visto che era dell'albero dei Sussurri e comunque un po' di oggetti gialli fanno sempre comodo. Però vedi la cassa è veramente una merda, c'è due robe blu che le prendo lo stesso perché quelle Sacred costano un po' di soldi e alla fine fa comodo. Della merda. Adesso non ci abbiamo guardato ma dovremmo avere un Whisper in più. Ammazziamo questi qua fuori. Che ci danno un bel po' di roba. Tra l'altro sono comodi perché erano tanti e ogni mob credo che ti droppi un'anima per stavare qua dei Whisper. Abbiamo fatto sia i Vampiri che questo, quindi ci ha dato due Whisper. Infatti qua siamo a nove. Quindi ci mancherebbe l'ultimo. Già che siamo qua però finiamo questo. Lo teniamo traccato, siamo a 52 su 100 quindi ci siamo quasi. Siamo arrivati a 100 e quindi torniamo ad attivare il pilone che dovrebbe semplicemente far sponare roba che eliminato un po' dobbiamo ammazzare. Chi l'avrebbe mai detto. Fortunatamente sono tutti e tre i miei lì. Quindi è abbastanza comodo. Oh va che bello quando sono tutti quanti uno sopra l'altro. Quando è sta build. E fatto questo, visto che abbiamo finito le missioni dell'albero, andiamo direttamente a vederlo. Non è la roba ottimale perché bisogna rimanere qua a farmare. Però noi andiamo dall'alberello. E anche qua abbiamo più o meno la possibilità di scegliere che cosa vogliamo. Qua in realtà non scegliamo proprio noi. Ci dà tre alternative però... Meglio gli un calcio nei marroni come si dice. Per esempio questa volta ci dà one handed weapon, chaos che credo sia random e armi a due mani. Ogni tanto ci dà delle casse più fighe tipo ti fa scegliere o una cassa bianca che non so arma a due mani che in questo momento mi serve quindi prenderò questa. Oppure magari qua c'era armi a una mano però leggendaria. È tipo arancione quindi più figa quindi c'è il dubbio se prendere una o l'altra. Comunque gli ovviamente dipende da che cosa serve la vostra build. E ci dà sta cassa. Tu apri la cassa e inoltre un po' c'è della roba dentro. In questo caso abbiamo scelto quella delle 2H. Ci ha dato una spada 2H, un'altra spada 2H e un elmo sacro non si sa perché. Le robe sacre non mi ricordo se l'ho detto comunque sono di livello superiore a quelle normali in pratica. E poi ci sarà un livello ancora superiore. Volevo tagliare mentre facevo l'upgrade del gear però vi spiego anche un attimo come funzionano gli aspetti. Gli aspetti sono le passive delle armi leggendari. Per esempio questa è la kit quando colpisci un nemico con del CC bla bla bla. Questa è la scritta arancione che c'è in pratica in fondo a tutte le varie abilità. Noi possiamo tirar fuori l'aspetto di un'arma. Per esempio questa dice che quando c'è il wirewind quindi il turbine lascia dietro un altro turbine che fa un po' di danno bla bla bla. Non è troppo importante e non si usa. Per quanto assurdo non si usa nelle build call wallwind perché il danno è abbastanza una merda. Però noi possiamo tirare fuori l'aspetto. Quindi lo mettiamo qua. Paghiamo 71.000 monete d'oro. L'oro è abbastanza infinito come in tutti i diavoli. Non è un problema. Cioè se uno si mette lì a farmare in un'ora fa tipo 10 milioni. Quindi non è questo grosso problema. Abbiamo tirato fuori l'aspetto. Questo vuol dire che noi possiamo prendere un'altra arma. Per esempio questa qua. Adesso non lo farò però per esempio no. E possiamo metterci un aspetto dal nostro inventario. Tutti questi aspetti sono quelle passive. Per esempio quella che ho tirato via adesso. Il wirewind lascia indietro un turbine che fa danno bla bla bla. Tu lo metti qua. Ho sbagliato. Tu lo metti di qua. E lo metti sopra l'arma che tu gli hai dato. Oltre ad usare quelli che abbiamo nell'inventario. Questi qua che abbiamo tirato fuori dalle nostre armi. Possiamo anche metterne dal codex of power. Dal libro che abbiamo. Quindi quelli che trovi in giro farmando i dungeon. Non tutti sono farmabili nei dungeon. Quindi ci sono alcuni aspetti. Quindi passive che vanno per forza estratte dalle armi. Però molti si trovano anche nei dungeon. Per esempio tutti questi qua. Li ho trovati nei dungeon e non è che li trovi. Tu sai che in quel dungeon ti sblocca quell'aspetto. Quindi se ti serve un determinato aspetto vai nel dungeon e lo farmi. Detto questo torniamo a farmare il nostro Helltide. Giusto per la chest con l'anello. E poi passiamo ad un'altra attività. Stavo passando. Ho visto della gente che stava picchiando il livello 62. E mi vengo un attimo qua a farmi carriere. Visto che non c'è speranza che io riesco a fare qualcosa. Ma facciamo finta di niente. Urliamo. Piruliamo. E speriamo che prima o poi muoia. Ma è un po' il bello della parte MMO di questo gioco. Che giri a caso e trovi un boss che tu non avresti mai fatto da solo. Ma c'è un party che ti carga. Defeat del Helltide Commander. L'abbiamo ucciso. Ah sì ok. Si è un attimo incipollito qua in mezzo. Ok. Ma sta lì. Lui comunque non gli interessa. Va bene. Facciamo finta di niente. Ci è dato un po' di roba. Siamo tutti contenti. Allora fino ho preso quella dell'amuleto perché mi sono accorto che facendo l'upgrade del gear ho l'amuleto che ha la stessa passiva di un'altra arma. Quindi fa abbastanza schifo. Cioè diciamo che fa veramente cagare. Comunque lasciamo perdere un attimo l'Helltide che in realtà finirei. Normalmente perché è una delle cose più utili da fare. E andiamo a fare i famosi dungeon. Come funzionano? Qua tra i consumabili abbiamo dei sigilli che ti sbloccano i dungeon a livello nightmare. Per esempio questo ti sblocca il dungeon Shadowed Plunge a livello nightmare. Questo ti sblocca il conclave a livello nightmare. Eccetera. Ogni sigillo è per un dungeon. Noi abbiamo già attivato quello del... Non mi ricordo cos'è. Feral's Den dungeon. L'avevo preso abbastanza a caso. Non è che avevo un motivo per andare là. Ma una volta usato quel sigillo, quel dungeon è a livello nightmare. Quando ci entri è a livello nightmare. A livello nightmare cosa vuol dire? Che i boss sono più incazzati. E c'è scritto sul sigillo che cosa hanno. Per esempio il nostro. Adesso non ho anche guardato cos'è ma... Adesso a livello 1 conta poco. Io trovo 20% più di gold. Sti rincazzi. C'è un qualcosa che mi insegue. Rilascia un pulso quando mi raggiungono. Non so neanche cosa sia. Onestamente i mostri fanno il 22% di danno fisico. Come sanguinamento in 5 secondi. Quindi mettiamo il GPS e andiamo là. Il GPS ovviamente era rincoglionito. Mi faceva fare una strada che non si può fare. E' una cosa che capita abbastanza spesso. Entriamo in questo dungeon. Non ti dà neanche un avviso. Ah, ultima cosa riguardo ai nightmare dungeon. E' che si può morire un massimo di volte. Che adesso è 12. Quindi insomma si muore 12 volte. Mi sa che quel dungeon non riuscivi a farlo comunque. E questo affare credo che sia quello che diceva che mi segue. Quando mi raggiunge cosa fa? Mi guarda. Quindi mi segue, sì. Fa vedere. Ah, fa po', mi ammazza. Ma mi toglie un po' di vita ma sti cazzo. Va bene. Eh, immagino che a livegli altri quell'affare sia abbastanza fastidioso. Noi qua dentro ogni dungeon ha le sue cosine da fare. Per esempio questa. Dobbiamo raccogliere delle anime. Ma vabbè comunque hai cose diverse da fare ma alla fine diventano tutte quante e ammazza tutto quello che si muove. Eh, poi diabolo. Non è che possiamo prendere chissà cosa. Però in realtà, a parte che appunto dicevo dei posti con i cc che sono una rotura di cazzo per questo motivo. Il vero problema è che... Oh, è un glyph. Dopo vediamo anche la storia dei glyphi perché finito questo dungeon ci farà upare i nostri. Il vero problema è che spesso non puoi semplicemente ammazzare tutto quello che si muove. Perché devi andare a raccogliere cose e portarle in posti. Tirare delle leve, fare avanti e indietro per un dungeon. Che è una cosa che io personalmente su Diablo non apprezzo troppo. Ci sono posti in cui va bene fare tipo dei... Degli indovinelli, cose del genere. Cioè comunque robe un po' particolari. A altre, tipo i dungeon dove devi solo andare avanti e ammazzare tutto quello che si muove. Non mi puoi far fare avanti e indietro per un dungeon a piedi tra l'altro. Almeno dammi la mount o qualcosa del genere perché sennò veramente... E qua dobbiamo continuare ad ammazzare gli Animus Carriers che sono quelli segnati... Ma è stato reportato il pietrone bastardo. Sono quelli segnati con un tesco sulla mappa quindi basta che giriamo un po' e... E li cerchiamo. Il danno direi di poterlo un attimo ignorare che non è troppo alto. Ok, questi sono tante esplosioni insieme però. Ok, di qua perché non si passa? Ah, perché è la porta chiusa da lui. Eh, vedi, questo è quello che intendevo. Io sono arrivato fino qua. Quella però è la porta che si apre solo quando si è arrivato a riempire questa barretta rossa qua a destra. Quindi adesso devo andare a cercare degli altri tizi col teschio per ammazzarli. Mentre l'orso mi mangia i maroni e la pietra mi esplode sotto al culo. Quindi abbiamo trovato il ragnetto col teschio. Ammazziamo il ragnetto. E speriamo che basti questo. Perché se no potevamo ancora andare più in là. Per poi tornare indietro. Non basta ovviamente. Quindi dobbiamo andare più avanti. Allora abbiamo finito. Quindi possiamo tornare indietro. Possiamo tornare? Non funziona il GPS qua dentro. Ci sta non è che sia. Troppo un problema. Diciamo che un overlay non era male. C'è la mappa stile Diablo 2, Diablo 3, Diablo 3, C'è qualunque cazzo di hack and slash. Non so perché hanno dovuto cambiare sta cosa. Non è che mi convinca tantissimo onestamente. Soprattutto nei dungeon. Perché nei dungeon non va il GPS che ti fa vedere la stradina. Quindi devi sempre andare in giro così controllando dove stai andando. Insomma. Ammazzare roba c'è da un po' di XP ma non credo che ne valga la pena. Credo che sia meglio tirare dritto e arrivare alla fine. A meno da quello che ho visto fare a chi sta già farmando quelli di livello alto. Però sono a livello 56. World Tier 3. E sono ancora allo step normale delle gemme. Quindi tipo riesco a fare un diamante. Non diamante perfetto. Diamante qua diamante no. Solo diamante. Però siete stati fortunati che mi hanno trovato subito la strada giusta. Se non beccavo quella giusta dovevo arrivare fino in fondo dell'altra strada. Poi tornare indietro e poi iniziare a venire giù per questa strada. Non lo so. Non sono troppo convinto di questi dungeon. Sembrano dei rift di Diavolo 3 però fatti peggio. Ah e qua in fondo c'è il boss che ovviamente ci porterà via delle ore essendo un signor barbaro. E i signori barbari danno singolo se lo sognano. Adesso non so quanto ci ho messo a fare questo dungeon. È stato veloce. Di solito sono un po' più lenti i dungeon. Ci metto di più. Questo a fare ci uppa un glifo. Il glifo cos'è? Se ne andiamo nella nostra tabellina Paragon che poi vabbè ce ne saranno tipo altre quattro di fianco uguali a questa. In mezzo abbiamo uno slot per metterci un sigillo. Questi sono i vari sigilli che ovviamente si droppano. Probabilmente ne ho migliori e adesso ci ho messo questo qua appena l'ho sbloccato. Comunque qua in mezzo ci mettiamo un sigillo e si livella come le gemme di Diablo 3. Non so che dico come Diablo 3 un sacco di volte ma perché così. Noi ci clicchiamo sopra e possiamo scegliere la gemme che vogliamo. Per esempio io stavo livellando questa che dice ogni 5 punti di destrezza comprati nel range perché in pratica tu lo metti qua. Quindi ogni 5 punti di destrezza che ci sono fra le varie pallotte qua di fianco ti dà 2,3% di danno in più a chi sta sanguinando. Quindi vabbè adesso non ci voglio pensare. Facciamo così giusto per vedere. Mi ha dato un pochino di XP. Ovviamente quando arriverà a 15 di XP livellerà e sarà più figa eccetera. Gear credo che mi abbia dato della merda. La kit. Ok è quella che mi serviva invece scusa gioco se ti ho offeso. Scommettere che ne abbiamo parlato tanto prima. Voi venite in città da Lizveth. In questa città comunque ce n'è uno in tutte le città grandi. E per 60 obols che sono questi affari. quelli che lootate facendo gli eventi. Lui vi dà un anello a caso. Bene. Anello blu di merda. Bene. Anello leggendario. Che non è male perché è l'abilità che mi serve. Però ce l'ho già. Qui mi serve a quell'altro. Comunque fate così perché tanto vi dà solo della merda. E guardate un po' che cosa c'è. Nel frattempo è esponato un evento della legione. Innovinato un po'. Mi si va là e si picchia tutto quello che si muove. Dovremmo fare in tempo ma anche se si arriva a metà non è un grosso problema. Dovrebbero comparire sulla mappa quando mancano o 5 o 10 minuti. Non ricordo. E se arrivi la prima dovrebbe esserci un falò. Dove se stai lì un paio di minuti ti dà un bonus di XP. Eccolo qua il campfire. C'è questo falò. Uno viene qua. E c'è questo buff che stacca 15 volte se non sbaglio. Però vabbè adesso inizia l'evento. Ecco è andato da 2. Riusciamo giusto a dare velo a 2. Non è troppo importante. Nel frattempo però prendiamo un consumabile a caso. Un ok inutile. La kit va bene. Che cosa ci dà più XP. Viene qua e di volta in volta viene scritto a destra che cosa c'è da fare. Per esempio adesso uccidi gente. Grazie gioco. Non l'avrei mai fatto se non me l'avessi detto tu. Vabbè. E se arrivi ad uccidere i 3 servant of hell hai la master. Quindi ti dà più roba. Sulla mappina ci sono quei cerchi bianchi che lampeggiano. Che fanno vedere dove stanno per sponare i mob. Per esempio adesso ho finito questi. Se ce la facciamo. Sono molto duri. Non so se ce la faremo. Là a destra c'è il prossimo. E ti dice guarda stanno per sponare lì. E quindi non devi neanche pensare troppo. Basta che segui i primi mob e quando sono finiti i mob i cerchi bianchi sulla mappa. E poi finita la barra ovviamente spona il boss. Fai questa cosa per 3 volte e poi spona il super boss. Dovrebbe esserci il bossone adesso. Che compare diretto. Ci sarà qualcosa da fare? No questo qua si picchia senza dover fare cose strane. Va bene. Finito questo boss. Ci dà casse in base a quanti eventi. A quanti bossettini siamo riusciti a uccidere con che velocità. Non credo mi abbia mai dato in pratica della roba leggendaria. Quindi almeno per il momento. Poi andando più avanti probabilmente non sarà così. Mi sembra bloccato a raro. Come rarità degli oggetti. Però sono sacri quindi può anche andare bene. Anche perché è un oggetto con che ne so prendiamo un qualcosa tipo questo. Scarpe sacre con 4 abilità. Se le abilità sono migliori di un oggetto leggendario. Noi prendiamo l'aspetto del leggendario. Quindi la passiva ce la mettiamo sopra. Abbiamo delle scarpe migliori. Partendo da una base di scarpe rare. Andiamo avanti con le attività da fare. Come ci dimostrano i nostri due amici. Col pvp. Arrivando in questa città. Non volevo scendere a cavallo. Arrivando in questa città. Iniziamo a vedere la scritta evento pvp. Con, indovinato un po', dei frammenti da farmare. Questi frammenti ci permettono di scommettere. Sostanzialmente anche qua è la stessa identica cosa. E comprare queste scroll che hanno degli effetti particolari legati al pvp. Principalmente per esempio questo aumenta il movement speed. E fai danno basato sulla tua vita massima. Questo prendi meno danno dai player ma prendi più danno dai mob. Cose del genere. E poi qua da qualche parte dovrebbe esserci il corrispettivo del tizio che scommette di là. Cioè del tizio che ti fa scommettere. Che è questo con 3000 cose. Prendi un po' di roba. Anche qua completamente random. Andiamo un attimo nel mondo che vi faccio vedere che... Com'è. Qua dovrebbe esserci esatto. Vedi Mark for Blood. Se tu ti insegni Mark for Blood vuol dire che... Ha il pvp attivo. Per disattivarlo credo che... Si possa fare solo in città in un santuario. Perché così non puoi attivarlo o disattivarlo. Mentre giri no? Perché sennò giri vedi uno di livello alto. Aspetta lo disattivo così non mi ammassa. Poi vedi uno di livello bassa. Aspetta quello attivo. Cosa del genere. Se noi arriviamo ad uno di questi altari. Facciamo partire... Un rituale di purificazione credo si chiama. Comunque c'è questo grosso cerchio dal quale non potete uscire. Altrimenti si interrompe. Tutta la regione sa che state facendo questa cosa. Quindi se c'è qualcuno in zona che vuole fare il pvp... E ovviamente sapete che riceverete compagnia a breve. Il pvp di Diablo ripeto è completamente sbilanciato. Quindi verrete one shotati da chiunque. Non aspettatevi di sopravvivere se qualcuno sa che siete lì. E avete mezza spell in cooldown. Quando finisce il timer. I frammenti che avete vengono convertiti in red dust. In polverine rosse. Queste qua sotto. Mille frammenti. Adesso abbiamo mille red dust. Perché in realtà prima quando vi ho spiegato in città. Non usi i frammenti che tiri su. Ma usi le red dust per comprare le cose. Quindi in realtà servono quelli frammenti. Non servono a niente. Fin quando non li converti in red dust. E spesso ho notato che nella zona pvp ci sono favori. Da prendere dell'albero di sussurri. Che prima ho detto che si chiamano sussurri. In realtà sono i favori per l'albero di sussurri. Questo tra l'altro mi dice che mi dà 5 favori. Se non ammazziamo questo abominio. Che è livello 56. Quindi si fa. Non è successo assolutamente niente. Sono stato qua. 5 minuti a girare intorno a questo boss. Non si è visto niente. Lui non ha fatto niente di strano. Veramente un sacco di frammenti. Che andiamo a convertire. Già che siamo qua. Poi c'è anche in realtà. Questo qua che ci vende delle armature. Per il cavallo. Che sembrano molto fighe. 85.000 frammenti. Sono tanti. 100.000 frammenti sono ancora di più. Però se uno c'ha voglia. Secondo me in un aggiornato. Onestamente si farmo. Cioè sono stato qua 10 minuti. Io ne ho 4.500. Quindi. Dovrebbe essere abbastanza semplice. E per togliersi il pvp. Veniamo qua. Fai così. Zacc. In realtà l'unica cosa che manca da fare. Sarebbe il warboss. Che fa un po' il cazzo a clipare. Quindi in questo momento non c'è. Vi lascio però qua sotto un video. Di quando l'ho ammazzato. E per descriverlo brevemente. E' abbastanza inutile. E' stato un fight molto noioso. La ricompensa fortunatamente è weekly. Quindi bisogna aspettare una settimana. Per riavere la cassa che ci dà. E come potete vedere. Evitate le pozze. Non state lì davanti. Picchiatelo. Almeno questo. Poi ce ne sono. 3 mi pare. Non mi ricordo comunque. Da quello che ho visto. Sono tutti abbastanza semplici. Quindi per riassumere questo endgame. Che in realtà. Non è l'endgame. Perché sono a livello 55. Ma è proprio questo il problema. Quello che sto facendo io. A questo livello. Sono le stesse identiche cose. Che stanno facendo quelli. A livello 99 e 100. L'unica cosa che cambia. Ovviamente. Sono più difficili. Bisogna stare attenti. Agli affissi. Su fissi. Il pvp è inutile. Quindi quello non lo prendo. Neanche in considerazione. Non c'è una ladder. Quindi non si può neanche dimostrare. Di avere il cazzo più grosso degli altri. Arriverà quasi sicuramente. Nella season 1. Ed è proprio questo il punto. Bisogna aspettare la season 1. Per giudicare bene questo gioco. Perché al momento. L'endgame. Mi sembra veramente una merda. Molto ripetitivo. È un Diablo. Lo so. Adesso andrete sotto. È proprio un Huck and Slash. Cosa ti aspettavi? Lo so. Però le cose utili da fare. Sono letteralmente due. Le build. Sono quelle. Non si può inventare. Chissà cosa. Le classi sono le stesse. Che avevamo su Diablo 2. Su Diablo 3. Non mi aspettavo la gran rivoluzione. Del secolo. Per quanto riguarda i videogiochi. Ma almeno un po' di modifiche. Cioè sembra veramente. Un DLC di Diablo 3. Lo ripeto. Lo ripeterò sempre. Quindi nonostante. Fino a questo punto. Il gioco mi è piaciuto. La storia mi è piaciuta. Il mondo. I personaggi. Si sono ripresi. Comunque ne parlo bene nel dettaglio. Nel video scorso. Cercatelo qua sotto. Che vi lascio il link. Dicevo che fino a questo punto. In realtà il gioco. Mi è piaciuto. E mi piacerà anche. Probabilmente per i prossimi. 10-20 livelli. Però non è che si può andare avanti. L'infinito così. E quindi come Endgame. Mi sembra veramente. Mancare di profondità al momento. E bisogna aspettare la season 1. Per vedere che cosa cambierà. Si possono inventare. Veramente. Veramente. Di tutto. Basta guardare. Path of Exile. E la cosa importante. Secondo me. È che le basi del gioco. Sono solide. Il gioco. È fatto bene. Se le cose cambieranno. Comunque nei prossimi livelli. Farò un altro video. Per aggiornarvi. E alla prossima.